Eccoci all'Anfiteatro di Villa Potenza con Mr. Luzzi a conclusione di una degna e gloriosa stagione, al primo anno c'è stato subito il salto di categoria e questa sera abbiamo anche appreso della riconferma di Mr. Luzzi per l'anno prossimo. Sì, fa piacere di restare con i ragazzi anche il prossimo anno, è stato formato un buon gruppo, adesso ci aspetta una nuova categoria e cercheremo di dare il massimo, stasera ci siamo trovati per l'ultimo saluto per la stagione fatta, quindi ci siamo trovati tutti stasera per fare una partitina, adesso ci salutiamo per le vacanze, la società comincerà a lavorare per il mercato e ci godiamo le vacanze in attesa della nuova stagione. Il 24 adesso ci dovrebbe essere ancora una ufficiale ma dobbiamo intitolare il campo al nostro caro Michele Cironella, non vediamo l'ora e quindi ci ritroveremo probabilmente il 24 giugno per questa splendida occasione per ricordare il nostro caro Michele. Grazie mister, siamo contenti anche noi per questa riconferma e auguriamo a te e a tutta la società di fare quello che è stato fatto quest'anno. Grazie e buona vacanza a tutti i tifosi, società, giocatori e tutti quelli che ci seguono.